The Football Story presenta un mito del calcio. Franco Causio, nato a Lecce il 1 febbraio 1949, è un ex calciatore, di ruolo centrocampista o attaccante e dirigente sportivo italiano. Soprannominato il barone, Causio era un'ala destra dotata di fantasia, abilità nel dribbling e un ottimo controllo di palla. Famosi erano le sue discese sulla fascia per fornire precisi traversoni al centro dell'area. Nel 1964, Causio esordisce nel campionato di Serie C appena quindicenne con il Lecce, collezionando tre presenze. Nella stagione successiva, 1965-1966, si trasferisce alla San Benedettese in Serie C, collezionando 13 presenze. Nel 1966, viene notato dalla Juventus, che lo ingaggia. Nel primo anno in bianco-nero non scende mai in campo, mentre nella seconda stagione marca una sola presenza che gli vale l'esordio in Serie A, la partita è in Mantua-Juventus del 21 gennaio 1968. Il successivo biennio lo passa in prestito, da prima alla regina, dove totalizza 30 presenze e 5 gol nel campionato di Serie B 1968-1969, e poi nell'annata seguente al Palermo, segnando tre gol in 22 partite nel suo primo campionato da titolare in massima Serie. Nel 1970, rientra alla Juventus dove inizialmente, rimane inquadrato nella squadra riserve. Tuttavia, ben presto si guadagna la fiducia dell'allenatore della prima squadra, Armando Picchi, il quale dall'autunno seguente lo promuove stabilmente a titolare. Nonostante l'ancora giovane età, diventa ben presto una delle colonne della squadra bianconera, di cui vestirà la maglia ininterrottamente per le successive undici stagioni, coi torinesi vincerà sei scudetti, una Coppa UEFA, e una Coppa Italia. Nel 1981, con la Juventus orientatasi a puntare sui più giovani si interruppe il rapporto. Così, dopo 304 presenze e 49 gol, viene ceduto all'Udinese. All'inizio il passaggio in provincia, per Causio, poteva sembrare un viale del tramonto, ma in realtà fu l'opposto. Ad Udine, Causio visse una vera e propria seconda giovinezza, con l'Udinese giocò per tre anni ad alto livello, collezionando 83 presenze e 11 gol, che lo portarono a riconquistare la maglia della nazionale. Nel 1984, 85 si trasferisce all'Inter, militando in nerazzurro per una sola stagione, per poi fare ritorno dopo vent'anni a Lecce. Club che lo aveva lanciato agli esordi e che nella stagione 1985-1986 era all'esordio in Serie A. Poi, terminato il campionato con il Lecce, si trasferì in Serie B alla Triestina dove chiuse con 64 presenze e 35 gol, la sua carriera alla fine del campionato 1987-1988. A livello internazionale, ha iniziato la sua carriera con la nazionale italiana a 23 anni nel 1972. Partecipando al campionato del mondo 1974 in Germania Ovest con due presenze. Diventato titolare, ha giocato nel campionato del mondo 1978 in Argentina, segnando un gol nella finale per il terzo posto contro il Brasile. A 33 anni, ha contribuito alla vittoria dell'Italia nel campionato del mondo 1982 in Spagna con due presenze. Nella finale contro la Germania Ovest, l'allenatore Enzo Bearzot lo ha fatto scendere in campo negli ultimi minuti in segno di stima e riconoscenza. Causio ha concluso la sua carriera internazionale il 12 febbraio 1983, a 34 anni. Durante 11 anni con la nazionale, ha totalizzato 63 presenze e segnato 6 gol. Dopo il ritiro, si è stabilito a Udine, aprendo un negozio di articoli sportivi. Ha continuato a essere coinvolto nello sport, svolgendo ruoli dirigenziali e di team manager in diverse squadre, tra cui l'udinese. Ha anche partecipato alle telecronache per Sky Sport e Udinese TV, diventando un ospite fisso in vari programmi.